Llorana Ecco Langu audio guarda l'acqua guarda nell'acqua guarda l'acqua ti guarda il una vecchievale I'm sorry baby, è stato bobo che è tutto il video Eccomo Ciao 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 Ehm Ipad No Otto Ma sai come si chiamano? E tatti E' questo qua che non c'è tutto il mio Evil E nole Ehm Mi ricordo dai una cotonetta ma devi guardare la mano questo non sto tornando 8 gennaio questo è il capo di narco non è piccolo si puoi fare il cena con la saprisa dove lo butto? differenziata la porta e le tappi fuori e la porta ancora testa un commento? un pochetto un pochetto un pochetto sembrava un pochetto un happeno dischi un pochetto che c'è un cane che ruba la carne non potevo dare dentro un figo che c'è non c'è niente in frigo c'è tutto chiamo Nalla Nalla c'è un attimo ancora che ho fatto a scuola è un po' ballato però è caldo faccio un po' caldo un attimo ecco qui ho pure ancora per colazione come sta così questo lì va così si è un tavolo bello ma guarda che non sta giocando io la cucina la cucina la cucina la cucina questa è che la cucina non c'è il capo vediamo E poi qualcuno ruba la mangiare, ma sai che è? E' denaro. E qua dentro c'è il kinder gelato. Madonna, guarda di nuovo qua. Ma c'è anche per guido, per aranza, tos, cofì, che ti costa. Spero che io giunare per cosa? E qua dentro. Come ti chiamo, abueno? Airflare. Molto bene. Questo è l'oven. No, quello si chiama microonde. Piccante. Microwave. 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 Questa è che deve essere fatta. Ma c'è una baccia però. Ah, però non l'ho fatta. Aspetta. Tatti, puoi fare charge? No. Non so charge. Eh? Non so charge. Eh? Non so quals'amore. Non so quals'amore. vabbè guarda ma dopo come mai mi compro ma dove compriamo queste cose che ho scritto sul foglio guarda dai a un'altra cosa sta parlando? Nala! lei mi chiama Nala! Nala! chi sta parlando? guarda qua Nala! 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 io ti faccio vedere la data a me negro Rufo è compiti a qua ancora c'è grande c'è copino anche io a qua sta parlando? me fai rufo è compiti vabbè 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 Sì, ho spettato. Si, è spettato. Tieni a costruire! Ciao, ciao! Il tuo speaker? C'è un potato. Io penso che la bontà.